Chiara, Silenzio in Sala assegna un premio, premio non reale. È un premio che teniamo a dare a un cortometraggio di genere horror, che spesso purtroppo il genere horror in Italia non viene premiato, anche perché siamo legati a una cultura dell'horror un po' più vecchia, un pagno 80, anche un pagno 90. Invece questo premio va proprio come augurio all'horror italiano, perché questo cortometraggio, per chi l'ha visto, ha volto il suo sguardo verso uno scenario un po' più internazionale, quindi è stata una sorpresa e anche un po' un orgoglio da amante dell'horror. Benissimo, allora insomma lo diciamo subito e lo invitiamo qui sul palco, perché questa volta il regista ce l'abbiamo qui, no? È lui ed è Marco Baroni, con cuore di strega, che si assegna il premio noveale, proprio assegnato da Silenzio in Sala. Eccolo qui Marco, buonasera e benvenuto. Grazie a tutti. E allora Marco, buonasera, benvenuto. Intanto che emozione è essere qui questa sera, ti aspettavi di ricevere questo premio? Sono felicissimo, ringrazio davvero Silenzio in Sala, che hanno cresciuto nel progetto, io vorrei ringraziare i coproduttori del corto, Luisa Resimone e Giorgio Loco, la costumista, Chiara Romano. Complimenti anche a loro, quindi è un premio che condividi anche con chi ha collaborato. Grazie Marco, allora facciamo la consegna di questo premio, facciamo una bellissima foto di rito e un altro applauso quindi per Marco Baroni, che con cuore di strega vince il premio non reale assegnato da Silenzio in Sala.com. Foto fatta? Eccoci qua, pronti per la foto? Benissimo, un altro applauso! Grazie mille, grazie.